In questo video presentiamo le funzionalità di utilizzo avanzate del termostato Blueface. La funzione EcoAdapt è concepita per aumentare l'efficienza della sua installazione, sia limitando la possibilità di impostare le temperature nei differenti ambienti dell'installazione. Le opzioni disponibili, iniziando da quella meno efficiente, sono Off, Manuale, A, A+, A++. In funzione della temperatura ambiente che si imposta, il Blueface, tramite un codice cromatico, comunicherà in modo semplice il livello di efficienza del sistema. Verde, molto efficiente. Giallo, efficiente. Arancione, inefficiente. Rosso, molto inefficiente. Dal termostato è possibile inoltre realizzare programmazioni orarie per qualsiasi zona della sua installazione. Per realizzare una programmazione, premere sull'icona con il segno più. Selezionare tra Programmazione di modo, per programmare il modo di funzionamento del sistema, o programmazione di temperatura, per accendere, spegnere o attivare con una determinata temperatura la zona. Una volta selezionata la programmazione, impostare i giorni, l'ora e la relativa azione da realizzare. In ultimo, attivare o disattivare le programmazioni realizzate utilizzando il selettore On-Off. Per modificare le programmazioni, premere sopra quella sulla quale si desidera operare, nella lista delle programmazioni caricate, e realizzare le modifiche desiderate. Premendo in modo prolungato su una delle programmazioni, viene aperto un menu con differenti opzioni selezionabili. Sarà possibile impostare il nome della programmazione, eliminare la programmazione, o copiare la programmazione per applicarla in un'altra zona dell'installazione. Grazie. 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 Grazie.